Elio, sei arrivato a Caserta e hai trovato poco spazio in squadra, però con Mr. Grassadonia, anche forse contro il parire della piazza che ti ha fatto giocare, finalmente ti sei sbloccato. Considerando anche questi due gol, sei a cinque gol consecutive. Dove puoi arrivare Elio Sia? Io penso che anche prima dell'arrivo dell'attuale allenatore giocavo, anche se in un ruolo non mio, come ho fatto anche d'altronde con il nuovo allenatore. Però penso che io, da quando sono arrivato, ho sempre dato il massimo e sono stato valutato bene. Poi è normale, dopo la sconfitta di Eboli, i tifosi, se la sono presi un po' con tutti e quindi sono stato, tra virgolette, anche un po' criticato. I gol arrivano adesso, sono importanti per me e per i play-off, perché il nostro obiettivo da raggiungere è quello, arrivare al migliore dei modi e ai play-off. Nei play-off l'arma in più della Casertana si può chiamare Lusiano? No, ma non è l'arma in più. L'arma in più di questa squadra è la squadra stessa, il gruppo. Poi è normale che se arrivano i gol vanno a completare quello che è la forza di questa squadra per aiutare a vincere i play-off. Quanto ti può avere aiutato l'aiuto dei compagni, dei senior, dei compagni di una certa età, tipo corsale? È normale, il capitano con gli altri ragazzi grandi della squadra danno una mano enorme a questo gruppo, formato anche da giovani molto promettenti e che hanno voglia di emergere. Quindi penso che è un mix importantissimo per riuscire ad arrivare all'obiettivo. Ultima domanda, un parere sulla città di Caserta. La città di Caserta è una grandissima piazza che, come sanno tutti, non merita queste categorie. È mancata troppo tempo nei professionisti ed è normale, è un po' come le piazze del sud. Se le cose vanno bene, sono tutti vicini alla squadra. Quando le cose vanno male, invece, dovrebbero un po' di più applaudire i ragazzi che, comunque, vittoria o sconfitta, ce la mettono sempre tutto, come stiamo facendo in questo momento. Quindi spero che saranno vicini alla squadra durante questi play-off.